Il caos nei corridoi del congresso sotto i quadri dei padri della patria. C'è una donna, zainetto con la bandiera americana sulle spalle. I poliziotti dietro di lei non sanno cosa fare. Nella confusione prova a sfondare una porta a finestra. Decisione fatale. Ashley Bobbitt, veterana dell'aeronautica, 35 anni, di San Diego, è a terra, colpita da un agente in pieno petto, dall'altra parte del vetro. Tentativi disperati di rianimarla. Grande patriota e grande sostenitrice di Trump, la definisce il marito. Morirà in ospedale, la prima di quattro vittime, nel pomeriggio più nero di Washington. Nulla ci fermerà, il suo ultimo tweet. E allora, torniamo in... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.